per terminare anche la pausa per quanto riguarda il termine del primo periodo ricordiamo il punteggio 18 per la pasta reggia caserta 15 per la Virtus basket Padova un primo quarto strano con Padova che ha avuto anche 7 lunghezze di vantaggio al sesto sull'11 a 4 poi è arrivata la rimonta da parte di Caserta grazie soprattutto a Lorenzo D'Addio 12 punti realizzati nel primo periodo adesso vedremo Padova come naturalmente cercherà di replicare a Caserta, sta soffrendo anche Padova la pressione che Caserta gli mette sulla rimessa si Caserta ha allungato la difesa pressione pressione fin fin dalla rimessa per il momento Padova sta soffrendo perché si sta accontentando di tiri che Caserta comunque sia concede tiri della lunga la palla non sta entrando quindi sicuramente il coach avrà avrà puntato il dito su questo cercando di mantenere un po' più la calma e di cercare conclusioni con una più alta più alta percentuale perché difese così pressi invogliano soprattutto a questa età a prendere tiri appena uno è libero invece magari con una costruzione migliore si riescono a trovare dei canessi e dei punti più facili palla persa intanto da Caserta e arriva la risposta di Padova vediamo con il numero 13 Marinello l'appoggio ancora per Marinello che vuole andare a giocare uno contro uno opta per un passaggio all'interno del pitturato tre secondi c'è alternativo da tre punti che non va e la rimbalza ha controllato la Caserta dal numero 23 Alessio Campanile Caserta si riporta in avanti adesso provandolo ad attaccare il canestro perde palla Caserta la rimessa è per Padova alzato l'intensità difensiva Padova in questa azione di Caserta Caserta ha sofferto ora vediamo se Padova riuscirà a rimettere la gara sui binari di equilibrio Pellicano per Pezzolo che sbaglia però stavolta è sfortunatissimo di parte Caserta con D'Addio anzi con Aldi ancora murato alternativo di penetrazione corre Padova prova a farlo e stavolta ha ragione Padova anche se è rischiato tantissimo il canestro è di Niccolò Pellicano quarto punto meno uno Padova diciotto diciassette Caserta insiste per attaccare il pitturato pallone sporcato lo recupera Aldi va a attaccare uno contro uno Aldi va a scaricare poi per questo alternativo non facile infatti c'è l'errore da parte di Caserta dall'altra parte corre Padova che va a realizzare un bel canestro con Croccolo situazione cambiata nel giro di pochi istanti 4 a 0 di parziale più uno Padova 19 a 18 sì Padova ha iniziato come Caserta aveva finito ovvero con una difesa forte e contropiede dopo due tiri da tre cercati all'inizio con degli errori si è affidata a due layup che l'hanno portata che l'hanno portata in in vantaggio infatti vediamo che chi aumenta il livello di intensità in difesa poi alla fine viene sempre premiato da da canestri da canestri facili adesso vediamo come rispondere a Caserta a questa a questa a questa pressione iniziale di di Padova dato due tiri liberi per Caserta se ne incarica Dario Alessandrini sbaglia il primo sempre più uno Padova 19 18 secondo tentativo errore anche sul secondo tentativo rimbalzo controllato la Padova pallone affidato a Baragnolo o Baragnolo lui che attacca è tornato in campo Guevarra da tre punti ci prova e sbaglia Padova con il numero 16 Pezzolo si lotta rimbalzo Caserta esce con il pallone può attaccare adesso la difesa che non è stierata ci prova da tre punti Caserta all'errore da parte di Campanile ma recupera il pallone ancora D'Addio Aldi uno contro uno lo scarico ancora per D'Addio va D'Addio ad attaccare chiuso allora deve ricominciare tutto da campo d'un secondo due secondi scadono i 24 secondi palla persa dalla pasta reggia a Caserta rimessa per basket versus Padova cambio per Caserta esce con il numero 23 Campanile in campo con il numero 10 Gli Avazzi riparte Padova che ha subito una strigliata al termine del primo periodo da parte del suo coach adesso sta giocando un po' meglio soprattutto sta approcciando meglio sia in attacco che in difesa Guevara appiona il pallone ancora l'attacco di Padova uno contro uno ottimazione poi l'errore da parte di Pellicano può distendersi in transizione contro piede Caserta l'errore anche dall'altra parte da parte del numero tre Beneduce che poi va a commettere un fallo di frustrazione adesso si è ricominciato coach come all'inizio della partita errori da una parte dall'altra anche se le scelte non erano assolutamente sbagliate sì le due squadre stanno interpretando bene la partita con delle buone scelte dopo tra la buona scelta e il fare canestro naturalmente c'è differenza però quest'età comunque sia già la buona scelta è qualcosa di importante per noi per noi per noi allenatori qualche base su cui lavorare poi il tiro ci sarà tempo per per farlo entrare sia tempo all'interno della partita sia tempo proprio nella crescita di questi ragazzi però vediamo anche delle buone individualità da ambo le parti con delle buone penetrazioni delle buone delle buone partenze anche buona fisicità palla persa a Gogo sembra un flipper adesso la partita da una parte e dall'altra recupera Padova la manovra con Trentin per Pellicano ancora Trentin provo ad attaccare la linea di fondo attacca molto bene poi però la cosa più facile era sbaglia era l'appoggio e allora Caserta può ripartire con il numero 15 Alessandrini l'appoggio per Giavazzi ancora per questo alternativo di Giavazzi Caserta in frazione di passi commessa da Aldi palla persa dalla pasta reggia doppio cambio per Caserta escono Alessandrini e Beneduce in campo vediamo il numero 18 festivese e il numero 5 Ponticelli intanto si è ripreso a giocare ancora con Padova in avanti più uno per la formazione veneta che prova ancora ad attaccare si chiudono bene le maglie difensive di Caserta però stavolta la virata fa la differenza arriva canestro e fallo da parte di Trentin che avrà anche il tiro aggiuntivo più 3 adesso per Padova nei confronti di Caserta Trentin e Lunetta per il tiro aggiuntivo fino a 7 punti per lui pronto Trentin primo libero anzi è l'aggiuntivo Vassegno Trentin ottavo punto più 4 adesso per Padova 22-18 l'attacco è quello di Caserta Aldi fallo in attacco lo ha commesso nel numero 10 Alessio Iavazzi tanta tanta difficoltà Caserta ancora deve trovare il primo canestro coach del secondo tempo del secondo quarto sì Padova effettivamente sta difendendo molto molto bene anche in quest'ultima azione abbiamo visto un'ottima chiusura della penetrazione centrale e quindi un giusto sfondamento fischiato dall'arbitro all'attacco sì come dicevamo prima Caserta ha bisogno di difendere forte per correre a campo aperto perché a difesa schierata Padova ha forse più fisicità e sta difendendo molto bene quindi deve cercare di aumentare in difesa di recuperare qualche pallone e di trovare delle conclusioni facili per rimanere attaccata a questa partita tanto terzo fallo per quanto riguarda Alessio Iavazzi errore in attacco da parte di Garrett Malveda Guevarra per quanto riguarda Guevara per quanto riguarda Padova punteggio 22 Padova 18 pasta reggia Caserta Aldi vuole giocarsi subito il suo uno contro uno poi scarica palla sotto recuperata ancora però dall'attenta difesa di Padova con il numero 6 Zanella già consegnata per Trentin eccolo Trentin poi Guevarra ancora fuori per Trentin vuole attaccare ancora il pitturato la virata stavolta la capiscono in difensione di Caserta l'attacco passi tutta la vita che non viene fistiato arriva nel cerfallo forse un'infrazione di passi coach non fistiato da qui da qui sembrava proprio così ha fatto un arresto a due tempi poi passo e tiro è sembrato un'infrazione di passi vediamo che comunque sia Caserta nonostante le difficoltà in attacco sta chiudendo sta chiudendo bene l'aria quindi impedendo situazioni e penetrazioni facili a Padova e soprattutto non permettendo a Padova di scappare via infatti nonostante 5 minuti Padova non ha subito un canestro vediamo che Padova è solo più 4 quindi se Caserta sta trovando difficoltà in attacco in difesa invece sta chiudendo bene l'aria costringendo Padova a più di una penetrazione e a qualche tiro forzato quindi vediamo se adesso Caserta riuscirà a sbloccarsi anche in attacco per ritornare per ritornare in partita intanto è arrivato il fallo della difesa di Padova il parziale di 7 a 0 in questo secondo quarto favorevole a Padova ma soprattutto Caserta deve trovare ancora il primo canestro di questo secondo periodo si chiudendo l'attacco della pastareggia con campanile per Aldi c'è che il ricevitore lo trova in Mastropietro poi la virata e palla persa ancora da Caserta e allora si scatena la transizione di Padova con il numero 10 Mazzonetto si fa vedere recupera Zanella vuole giocare l'uno contro uno Zanella chiuso allora riapre molto bene per questo tentativo che non va da parte di Mazzonetto Caserta recupera il pallone 4 a 14 al termine di questo secondo periodo più 4 per Padova Caserta prova ad attaccare il pitturato arriva la stoppata ma la palla rimane ancora a Caserta ha calpestato la riga ha calpestato la riga di demarcazione nel campo e quindi palla persa ancora dalla regge a Caserta basta regge a Caserta rimessa per quanto riguarda Padova ma tutto questo arriverà dopo il minuto di sospensione coach Caserta non segna Padova con il racconta gocce la partita rimane aperta sì infatti come ho detto in precedenza Caserta sta trovando difficoltà in attacco ma anche Padova comunque si ha fatto 7 punti in questo quarto quindi Caserta sta reggendo a livello a livello difensivo sta chiudendo bene l'aria quindi sta costringendo Padova ha dei tiri probabilmente non non consueti per per la squadra per la squadra veneta punteggio basso fino fino adesso quindi basta un un canestro una palla recuperata un contropiede per 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 ritornare e riaprire definitivamente definitivamente questa questa partita adesso gli arbitri fischiano quindi si si rientra in campo con con rimessa per Padova e la possibilità di di vedere se riesce a sbloccare questa questa situazione e noi torniamo in cronaca siamo andati anche a quello che succede sull'altro campo quello di pedaso dove la Columbus cantù è avanti di 5 lunghezze contro il Cuneo Granda Basket 25 a 20 si riprende a giocare con la rimessa per la Virtus Basket Padova 4 minuti e un secondo al riposo lungo quando la formazione di Maglia Verde è allenata da Cozzo Valerio Salvato porta parla in avanti con Trentin attacca il pitturato Trentin va a subire fallo l'appoggio al tabellone è mancato comunque Trentin andrà in lunetta per due tiri libri al di là del fatto che già Caserta è da parecchio in bonus e allora Trentin ha l'occasione di portarsi in doppia cifra ha realizzato 8 punti fino a questo momento primo libero per Trentin 22-18 sbaglia il primo e non di poco secondo tentativo per Trentin questo va a segno sale a quota 9 punti Matteo Trentin 23-19 più 5 e prova a rubare palla ancora una volta forse infrazione di campo invece gli arbitri optano per una palla a 2 con la freccia che premia Padova rimessa per Padova dunque in zona d'attacco 3-44 al primo riposo lungo a rimettere il gioco il pallone Zanella per Trentin ancora Zanella difesa individuale per Caserta allora gira palla Padova ancora 15 secondi per andare al tiro lo scarico per Guevara sbaglia rimbalzo però controllato ancora da Padova che può riniziare con questo condannativo la tre punti che va a segno la bomba è di Andrea Zanella e ora il parziale si dilata perché il parziale è di 11-0 per Padova in questo secondo periodo nei confronti di Caserta che ancora deve trovare il primo canestro c'è il fallo commesso da Guevara sull'attentativo di Aldi 11-0 il parziale dal 18-15 per Caserta al termine del primo periodo siamo passati al 26-18 per Padova che adesso cambia esce Guevara che non riesce a trovare la via del canestro entra con il numero 17 anzi ritorna in campo Matteo Croccolo l'attacco è per Caserta la bomba lunghissima ma il rimbalzo è controllato ancora dalla formazione campana l'ultimo tocco è stato di Mazzonetto rimessa per la pasta reggio a Caserta 2-59 alla termine del primo periodo rimessa per Caserta da tre punti si alza e sbaglia il numero 5 Ponticelli ma il rimbalzo di Aldi che può riaprire ancora Caserta rimane in attacco inflazione di passi giustamente ha mosso prima il piede e poi ha messo il pallone a terra è giusta l'inflazione di passi e soprattutto coach in queste categorie devono essere pistiate per far capire l'errore alla ragazza si sono molto molto d'accordo su questo secondo me in queste categorie bisognerebbe stare molto più attenti a infrazioni di passi e ponire situazioni di infrazione del regolamento piuttosto magari lasciare qualche contatto in più perché ragazzi a questa età devono ancora imparare e devono capire che un errore porta a una palla persa e quindi a un danno per l'intera squadra intanto c'è stato un fallo commesso ai danni di Mazzonetto cambio per Caserta esce con il numero 18 Festinese torna in campo con il numero 7 Vincenzo Telese due tiri liberi intanto per Emanuele Mazzonetto che sbaglia il primo secondo Ferro altro tiro libero sbaglia anche il secondo è chiaro che della lunetta troppi errori da una parte e dall'altra più 8 per Padova da 3 punti sbaglia Caserta rimbalzo però controllato dalla formazione campana che può operare un altro attacco lavora il pallone Mastropietro ancora per Aldi 1 contro 1 di Aldi sbaglia ancora Aldi c'è fallo commesso dal numero 23 Alessio Campanile due tiri liberi per il numero 5 di Padova ovvero sia Antonio Varangolo due minuti e un secondo al riposo lungo Varangolo in lunetta realizza Varangolo il primo punto della sua partita parziale aperto adesso è di 12 a 0 e sono 13 a 0 con il secondo tiro libero dicevamo dal 18 15 più 3 per caserta al 28 18 più 10 per Padova questo è anche il massimo vantaggio cristiano gli arbitri massimo vantaggio dicevamo sul 28 18 più 10 per la formazione veneta adesso fallo commesso dalla difesa in maglia verde che entra in bonus a 1 49 della riposo lungo rimessa in zona d'attacco per caserta già effettuata caserta spalla a canestro Mastropietro torna fuori forse passi anche in questa occasione quella caserta ad attaccare con Ponticelli scadono i 24 secondi è rimessa per Padova coach più che alzarsi l'intensità difensiva di Padova mi sembra che caserta abbia un po' l'idea confusa si sta trovando difficoltà a battere l'uomo uno contro uno e quindi difficoltà a trovare un vantaggio quindi poi tutto diventa 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 veramente difficile poi ecco succede come in questo caso di prendersi dei tiri forzati che non tocchino neanche il ferro in tutto questo però c'è un altro lato che sicuramente potrà lavorare in maniera positiva l'allenatore di caserta il fatto che nonostante abbia fatto zero punti il vantaggio adesso è diventato in doppia cifra dieci punti che comunque sia a queste categorie è veramente poco adesso addirittura ha otto quindi è sceso anche la doppia cifra quindi sicuramente questo è un è un punto su cui su cui ripartire è stato Aldi a fare gol in pratica per caserta 28-20 l'attacco ancora per Padova da tre punti assegno il numero 14 Tommaso stecca bomba per lui 31-20 dall'altra parte Beraglia Aldi Padova può giocarsi l'ultimo attacco c'è una leggera discrepanza con il cronometro e gioca Baragnolo 8 secondi il tentativo di penetrazione scarico Baragnolo recupera il pallone poi caserta può giocare ancora tre secondi due secondi si andrà il tiro Aldi lo fa pallone che però non arriva al ferro finisce anche il secondo periodo punteggio 31 per Padova 20 per caserta ci fermiamo pausa anche per noi ci risentiremo tra poco per la ripresa del gioco Padova